... Signore e signori, buongiorno a tutti quanti voi e benvenuti qui questa mattina nel Salone Isola Bella per un cocktail un cocktail diverso dal consueto un cocktail nel quale vogliamo sottolinearne l'unicità proprio perché lo facciamo in modo informale in mattina e in un luogo diverso dal consueto proprio perché noi amiamo definirlo un cocktail speciale per degli amici speciali quindi fra poco faremo un brindis a darvi ancora una volta il nostro comandante Mauro Bellomo vorrei avere con noi anche l'hotel director Ingrid App la responsabile del Costa Club la nostra Miriam il Cruise Sales Agent Daniele e assiste il cruise director Bartz l'interno è stato lo stesso Maria Vosio Spagnolo Andena Forgretti a Deborah Vodini e a tutti quanti voi signori e signori Chim-Chim-Chim un salute 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 chungo pros campai nazdrai yamans